Chi era Golda Meir e perché è fondamentale conoscere la sua storia. Attraverso la storia di Golda Meir si conosce la storia di Israele. Si capisce anche quanto sta accadendo oggi. Golda è stata la prima e unica donna premier in Israele. Ho deciso di scrivere questa biografia, la prima biografia dedicata alla grande statista israeliana in italiano, perché così si riesce a comprendere anche quanto sta accadendo oggi in Medio Oriente, perché molti nodi non sono stati ancora sciolti. Come giornalista politica poi ho voluto approfondire la parte che riguarda l'Italia, il suo scontro con Aldo Moro, che aveva abbracciato una politica panarabista, l'amicizia nell'ambito dei socialisti europei con Pietro Nenni e la stima con Oriana Fallaci, alla quale concesse la famosa intervista con la storia. Di tutto e di molto altro si parla in questa biografia, disponibile in libreria e su tutti gli store digitali.